Ben ritrovati amici di Motori TV, ci siamo, appuntamento del fine anno qui da Queen Car, la regina del risparmio, ci troviamo in via Susa 52 a pienezza, ciao Fabri Ciao a tutti, ben ritrovati, puntata straordinaria perché ritorna all'incentivo di rottamazione, pensate avete un usato che vale zero, da Queen Car può essere valutato, pensate fino a 12.000 euro di incentivo di rottamazione Nessuna limitazione per acquistare la vostra auto questo mese, soprattutto la scegliete, la provate e la portate a casa, ciao Max Ciao a tutti, ben ritrovati, vi ricordiamo, zero anticipo, prima rata dopo Pasqua, con furti, incendio, possiamo mettere la casco, la manutenzione e questo mese vi diamo anche le gomme da neve su tutte le vetture a chilometro zero Tutta la gamma Sayong in pronta consegna, ad esempio Lativoli, pensate un crossover al prezzo di un'utilitaria, benzina, benzina CPL, turbodiesel, quindi tutte le motorizzazioni, attenzione al prezzo, 12.900 euro la versione benzina Benzina CPL a partire da 14.900 euro, quindi 12.900 euro al prezzo di un'utilitaria, vi diamo un'autovettura, un bicrossover con 5 anni di garanzia, benzina, benzina CPL a soli 12.900 euro Tivoli, full optional, ROAD, DREAM, bicolore, tutte autovetture nuove, attenzione al prezzo, 34% di sconto, vettura nuova, solo targata, ad esempio con cerchi in lega, telecamera, navigatore, fendinebbia, kit bluetooth, cruise control, full optional Vettura che costa di listino 25.900 euro, solo da Queen Car, 15.900 euro, ultimi tre pezzi 1.240 litri, vanno bagagliaglio, parliamo della nuova, XLV 1.6 benzina, benzina CPL, 14.900 euro, ultimi cinque pezzi Finalmente è arrivato il nuovo Corando, due motorizzazioni, un 1.5 turbo benzina da 163 cavalli e un 1.6 turbo diesel da 136 cavalli Prezzo di lancio solo per dicembre, a 21.900 euro, il tuo nuovo Corando, ti aspettiamo da Queen Car a provarlo per un giorno intero, il nuovo Corando 12.000 euro di super rotamazione, parliamo del Corando 2002, turbo diesel, 4x4, cambio automatico, listino 36.500 euro, solo da Queen Car e tuo a partire da 22.900 euro Siamo a fine anno, super ammortamento del 140%, parliamo del Rexton Sport Pickup, l'unico pick up, un 2002 turbo diesel, 180 cavalli, in prota consegna, 5 anni garanzia A partire da 22.900 euro, più IVA, allestimento full optional, più di 11.000 euro di sconto, parliamo del nuovo Siong Rexon 2002, turbo diesel, la versione Icon, attenzione al prezzo, 33.900 euro Concessionario ufficiale Mitsubishi, presentiamo in anteprima la nuova Mitsubishi SX, nuova motorizzazione, un 2.000, solo da Queen Car, a partire da 16.950 euro Mitsubishi SX, benzina, benzina GPL, in prota consegna, pensate, a soli 14.950 euro, ultimi tre pezzi SX, benzina o benzina GPL, ad esempio come questa autovettura, a 16.950 euro, esenzione bollo e 5 anni di garanzia 10.000 euro di sconto, parliamo dell'SX Intense, navi 1.6, turbo diesel, ultimi due pezzi, pensate, listino 28.250 euro, solo da Queen Car, 17.900 euro, 5 anni di garanzia Full optional, cerchi in lega, navigatore, retrocamera, a soli 17.900 euro 34% di sconto, parliamo dell'L200, 2.500, turbo diesel, Intense, in prota consegna, a soli 21.900 euro, più IVA In anteprima, da Queen Car, il nuovo Mitsubishi L200, nuova motorizzazione, un 2.200, turbo diesel, 4x4, attenzione al prezzo In pronta consegna, solo Queen Car, ha il nuovo L200, in pronta consegna, a partire da 18.950 euro, più IVA La vettura più venduta in Europa, parliamo del nuovo Mitsubishi Outland, plug-in con 10.000 euro di sconto dal prezzo di listino Può essere vostro, a partire da 39.900 euro La nuova Mitsubishi Eclipse Coupé Crossover, due motorizzazioni, un 1.500, turbo benzina e un 2.200, turbo diesel A partire da 16.950 euro, portata a casa un Coupé Crossover, 5 anni di garanzia Appena arrivate in concessionaria, la nuova Mitsubishi Space Star, 1.000, benzina, benzina CPL, 1.200, occhio al prezzo 7.900 euro, la versione Invite Radio, a chilometro zero, 5 anni di garanzia, 5 anni di esenzione Bollosch Se uno prende la versione GPL, a partire da 7.900 euro, a chilometro zero, con tutto in serie 5 anni di garanzia, con rate a partire da 99 euro al mese Passiamo in casa Fiat, con i chilometri zero e vettura aziendale, subito una bellissima Fiat 500, a partire da 8.900 euro Sempre zero anticipo, prima rata addirittura Pasqua, con furti, incendi, incluso nella rata Passiamo in casa Lancia, con la Lancia Ipsra A chilometro zero e aziendale, a partire da 7.900 euro, già versioni full optional Sempre chilometro zero in casa Fiat, con la Fiat Panda 1.200, benzina, attenzione al prezzo 7.900 euro, venitela a vedere Sempre in casa Fiat, con il chilometro zero o aziendale, con lo sconto fino al 51% Ve la proponiamo, a 11.900 euro, diversi colori, venitela a vedere Non può mancare la 500X, benzina, diesel, versione anche GPL Sempre a chilometro zero, aziendale, a partire da 11.900 euro Chilometro zero anche in casa Jeep, con il Jeep Renegade, benzina, turbodiesel, attenzione al prezzo 16.900 euro, si la trovate qui alla Queen Car Non può mancare il Jeep Compass, sempre a chilometro zero, a 23.900 euro, super risparmio Super occasione in casa Alfa, con la Giulietta, turbodiesel, pochissimi chilometri disponibili anche ai chilometri zero, a partire da 12.900 euro Tutta la gamma Hyundai al chilometro zero Alcuni esempi, il Tucson 1.600 benzina a partire da 16.900 La Kona benzina a partire da 13.900 euro Hyundai 10 a partire da 8.900 euro Sempre a chilometro zero per farvi risparmiare Non possono mancare i chilometri zero in casa Kia Un esempio, la Stonic benzina a partire da 13.900 euro Le Niro ibride a partire da 18.900 euro Sportage sempre a chilometro zero Tantissime offerte sempre a chilometro zero Tutta la gamma Nissan a chilometro zero Alcuni esempi, la Micra 1.000 benzina a 9.900 euro Il Cascai benzina o turbodiesel a partire da 19.900 Non può mancare la Juke sempre a chilometro zero A partire da 13.900 euro Disponibili benzina e GPL Passiamo in casa Opel Con l'Opel Mokka a chilometro zero Un eco bonus col chilometro zero Rottamazione fino a 10.000 euro Listino di 27 La portate via a 16.900 euro Ancora chilometro zero in casa Toyota Con la Toyota Yaris Mille benzina a partire da 9.900 euro Passiamo in casa Mahindra Con la nuova Cuv 100 1.200 benzina Disponibile anche il GPL Attenzione al prezzo 9.900 euro Sempre zero anticipo Prima rata dopo Pasqua Con furti incendio Inclusa nella rata Molto bene amici Avete visto Queen Car Regala sempre opportunità pazzesche Ai propri clienti Ma soprattutto in questo periodo Da non perdere l'incentivo Rottamazione Avete un mezzo che vale zero Non potete più circolare Bene Queen Car Pensa proprio a voi E poi sconti Ancora sconti Fino al 51% Sì abbiamo tutta la gamma Nissan Toyota Opel Citro Renault Dacia Sayong Mitsubishi Pensate A chilometro zero Vetture nuove Solo targate Con sconti Fino al 51% E poi non dovete versare Un euro d'anticipo Sì veramente Alla Queen Car Venite Non date un euro d'anticipo La prima rata dopo Pasqua Già nella vostra vettura L'assicurazione Il furto Incendio Possiamo mettere la casca La manutenzione E andate via Anche con le gomme Da neve incluse Tre sedi per voi Via Poirino 6 Carmagnola La nuovissima sede Via Susa 52 Pianenza Oppure Torino Corso Grossetto 18 Queen Car Sempre a vostra disposizione Alla prossima